L'amministratore delegato di Air France, Jean Spinetta, non ama i fallimenti e per questo oggi si è seduto al tavolo con i sindacati per trovare una soluzione positiva all'acquisto di Alitalia. Al termine dell'incontro delle aperture sembrano essere arrivate. Innanzitutto la possibilità di comprendere nel perimetro dell'offerta fatta dalla compagnia francese tutte le attività di AZ Servizi svolte a Fiumicino recuperando in parte gli esuberi dei lavoratori di Roma. In secondo luogo Spinetta avrebbe approntato un piano di ristrutturazione per 60 piloti da riassumere direttamente in Air France negoziando poi per AZ Fly accordi distinti con i piloti, con gli assistenti di volo e il personale di terra. Una rimodulazione insomma in piena regola degli accordi che improcrastinabilmente dovevano scadere lunedì 31 marzo e che invece Spinetta si prepara a rinegoziare anche oltre quella data detto a partire già da venerdì 28 alle ore 12 quando una nuova proposta sarà presentata da Air France direttamente ai sindacati. Per il ministro delle attività produttive Pierluigi Bersani è un logico tavolo di transizione quello in corso a cui devono aggiungersi tutte le forze sociali per lavorare assieme per dare a Malpensa la prospettiva di un grande aeroporto con funzioni importanti come cargo e intercontinentali. Per il socialista Enrico Boselli invece si sta speculando sui lavoratori di Malpensa perché c'è la campagna elettorale. Tutti su All'Italia dicono bugie ha dichiarato anche Veltroni quando afferma che va bene Fiumicino ma anche Malpensa. Una compagnia di bandiera come All'Italia non ce la fa a tenere due abbi dice ancora Boselli l'unico modo per salvare la compagnia è cederla ai francesi altrimenti l'unica vera alternativa è fallire.